e siamo giunti al momento solenne dei giuramenti per il giuramento dei signori giudici ho il piacere di invitare Giovanna Maiello a nome di tutti i giudici e ufficiali di Gala prometto che avventeremo le nostre funzioni con una completa imparzialità rispettando e osservando le regole federali nel vero spirito della sportività grazie per il giuramento degli atleti vi invito Francesco Curia e Eleonora Faminelli a nome di tutti gli atleti in gara prometto che prenderò parte a questi campionati italiani rispettando e osservando le regole impegnandoci nel vero spirito della sportività per uno sport senza doping e senza droga per la gloria della sport è l'onore di tutti noi grazie 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 grazie